Dove sarà percorsi e le vetri si riperderà? E basta! Basta! E neanche l'ultima cena si può scambiare una parola! E già non pranziamo mai insieme! E va bene, state fuori tutto il giorno, e va bene! Ma l'ultima cena! Avete capito che me ne vado o no? E dove vado non prende! L'avete capito o no? E vi prego! Allora, d'ora in poi, non voglio sentire un dispositivo! Chiudete tutti i cellulare! Chiudete tutti i cellulare! Una chiamata importante! Non voglio sentire niente! Niente! Basta! Non voglio sentire volare una mosca! Mio! Giunta! Ma siamo a due metri, non me le puoi dire in faccia le cose! Ma perché è questo emoticone? Che rappresentano? E va bene, non vi lascia! Che rappresentano! Andiamo! E va bene! Che rappresentano! E va bene! E va bene! E va bene! Grazie a tutti